Rifare le strade di qua e di là, nel centro e non solo, in una città di 9.000 anime che conta oltre 50 contagi e oltre 500 persone in isolamento, una sorta di record in provincia di Brindisi, la notizia del rifacimento dell'asfalto inserito nell'istituzione del distretto urbano del commercio ha il sapore della promessa fatta e poi mantenuta. E' una promessa che avevamo fatto a tutti i cittadini con il Duc, il distretto urbano del commercio, come si vede dall'immagine questa è una zona dove avviene il mercato, finalmente riusciamo a regalare un po' di gioia a tutte queste abitazioni, tutta la zona, tutto il comparto che riguarda tutta l'area mercatale, le strade adiacenti, la parte del centro storico, la parte via della pace, del cimitero, tutte queste zone saranno interessate in questi giorni dalla scalifica e dalla sistemazione delle strade. E' un momento importante, è un momento anche per dare una speranza e un segnale che le cose non si fanno solo in ottica di avvicinamento di elezioni ma è un cambiamento anche della politica che ogni giorno vi è un cantiere aperto e Villa Castelli è un cantiere aperto ormai da tempo e nelle prossime ore ci saranno ancora altre novità. L'orgoglio del sindaco si trasforma poi in un messaggio di vicinanza ai contagiati da covid, a chi pure è in isolamento. Le istituzioni sono vicine, la parrocchia, la scuola, il comune, le associazioni di volontariato, alle persone dire è fondamentale come questa mia intervista, indossare sempre la mascherina anche all'aperto perché questo è fondamentale. Facciamolo per gli operatori sanitari, facciamolo per noi, abbiamo rispetto degli altri, rispettiamo la salute perché in questo momento è la cosa più importante, la salute.